Abbiamo alle spalle la fabbrica in fiera, un'ulteriore dimostrazione che a Brescia si fa quello che non si fa in nessuna parte del mondo, soprattutto partendo dalla tenacia delle persone di Brescia che sommata alla grande capacità del territorio riesce a fare cose straordinarie. Un'altra battaglia è vinta, è la prima cosa che mi viene in mente da dirvi, è stata una grande impresa nuovamente anche quest'anno, anche quest'anno è riuscita, è un piacere e anche un orgoglio di nuovo aver visto la capacità delle imprese di fare sistema Brescia e riuscire a collaborare fra di loro per portare a termine un progetto così ambizioso e importante. Quest'anno abbiamo parlato e dimostrato presso colate in alluminio che è un altro dei settori trainanti, anzi vorrei dire forse quello di punta dell'economia bresciana. L'idea del nostro consiglio è quella di cercare di rendere tutto quello che l'associazione industriale sta proponendo ai nostri associati, renderlo un pochino più concreto, perché tanta formazione e tanti convegni sono assolutamente utili, ma nel momento in cui hai la possibilità, e questa è un'occasione straordinaria, di toccare con mano tutta la formazione che stiamo assorbendo dall'associazione, ma vederla e toccarla con mano, secondo noi è un valore aggiunto ancora più interessante e stimolante.